Benvenuti nel mio canale dedicato alla cronaca nera e alla mente criminale. Sono Dolly Doyle e in questo primo video vorrei parlarvi di un delitto che non ha ancora trovato giustizia. L'omicidio di Niccolò Ciatti, avvenuto nell'agosto del 2017. Niccolò è un ragazzo di 22 anni di Scandicci in provincia di Firenze. Onesto, intelligente, sorridente, solare, stimato. Così lo descrivono tutte le persone che lo conoscevano. Gestiva un banco di frutta al mercato di San Lorenzo e tutti lo definiscono un gran lavoratore. Si stava impegnando al massimo per costruirsi un futuro per lui e per la sua compagna Ilaria. Amava ballare, quindi quell'estate decide di andare in vacanza con gli amici a Lore du Mar, sulle coste di Barcellona. L'ultima sera, l'11 agosto, verso le 11 e mezza, decidono di andare a ballare alla discoteca Centrope. E lì, poche ore dopo, si consumerà la tragedia. Alle 2.27 del 12 entrano in discoteca i suoi aggressori, tre ragazzi ceceni, alti e robusti. Sono le tre di notte e scoppia una rissa. Il tutto avviene in pochissimi secondi, è una rissa molto violenta e brutale. Pugni, calci, gli aggressori colpiscono con tecnica. Nicolò è a terra, in ginocchio, accanto al suo amico Andrea, quando uno dei tre aggressori lo colpisce con un calcio fortissimo alla Tempia. E pochi secondi dopo si dà la fuga insieme agli altri due sul lungomare. Nicolò rimane a terra, privo di sensi e con gli occhi sbarrati. Nessuno interviene, nemmeno i buttafuori che avrebbero dovuto garantire la sicurezza all'interno del locale. Erano solo in tre, per un locale che, se non sbaglio, poteva tenere circa 1500 persone, ed erano lontani dal luogo della rissa, quindi comunque non ce l'avrebbero fatta. Ma non intervengono neanche dopo il fatto, nessuno lo fa. Anzi, pochi minuti dopo, la gente riprende a ballare nello stesso punto, dove c'erano ancora le tracce del sangue di Nicolò. Gli amici di Nicolò lo portano fuori dalla discoteca a braccio, e poi lungo il vicolo per 50 metri, fino alla piazza dove giungerà l'ambulanza 20 minuti dopo, perché non sarebbe riuscita a passare per un vicolo così stretto. Provano a rianimarlo per circa 40 minuti, e poi lo portano in ospedale, dove morirà poche ore dopo. La polizia spagnola rientraccia sul lungomare i tre ragazzi ceceni di 20, 24 e 26 anni, quindi praticamente coetanei di Nicolò e dei suoi amici, e li arresta. Quindi iniziano le indagini a partire dalle testimonianze, dalle telecamere di sorveglianza della discoteca, e dei video fatti con il cellulare. Si scopre che a prendere sicuramente parte al pestaggio sono stati due dei tre ceceni. Mossar Magomadov, con la maglia rossa, che avrebbe sollevato Nicolò, scaraventandolo a terra, dove poi ha ricevuto il calce del ragazzo con la maglia grigia, di nome Rasul Bisultanov. In particolare viene divulgato il video di un turista olandese che si trovava proprio sul balcone, sopra il punto dove è avvenuta la rissa. Questo video mostra in maniera evidente e inequivocabile gli ultimi attimi del pestaggio. Vi mostro il video per farvi capire quanto l'aggressione a Nicolò è stata brutale e fulminia. Se siete particolarmente sensibili vi consiglio di saltarlo, dura circa dieci secondi. Si vede il ragazzo con la maglia grigia, Rasul Bisultanov, di 24 anni, colpire con quel violentissimo calcio alla tempia Nicolò. Che si trovava già a terra per i colpi subiti in precedenza. Il ragazzo con la maglia rossa, Mossar Magomadov, si avvicina, non si capisce se gli dice qualcosa o vorrebbe colpirlo di nuovo, ma si ferma e riprende a controllare il perimetro. Fin quando non interviene l'altro amico con la maglia rosa, Abivu Kabatov, se non erro, che li porta via. Quindi vengono arrestati tutti e tre i ceceni e Bisultanov, ormai inchiodato da quel video, confessa poche ore dopo. Bisultanov è l'unico a rimanere in carcere, perché gli altri due ceceni, il ragazzo con la maglia rossa e il ragazzo con la maglia rosa, vengono rilasciati dal giudice catalano la sera del 14 agosto. Non aveva ritenuto necessario trattenerli, anche se le testimonianze dicevano che avevano anche loro partecipato al pestaggio o comunque avevano spalleggiato il loro amico. Quindi chiedono asilo in Francia e vengono rimpatriati. Queste sono le foto di Kabatov con la maglia rosa e Magomadov con la maglia rossa all'uscita dal carcere insieme al loro avvocato. Il primo sospetto era che tutti e tre fossero ex paramilitari, un sospetto basato principalmente sulla corporatura allenata e sulla tecnica adottata durante la rissa. La teoria era che fossero in fuga dalla Cecenia per aver aderito alle mirizie dell'Emirato Caucasico, però a distanza di anni non ho trovato nessun riscontro per queste ipotesi. In quel periodo anche il giornalista Roberto Saviano propose la sua ottica. Partendo dal presupposto che la Costa Bava sarebbe controllata e monopolizzata dalle organizzazioni mafiose dell'Est, in particolare da quella Cecena che negli ultimi anni sarebbe diventata potentissima grazie al traffico di eroina afghana, bisognerebbe indagare, secondo lui, sull'eventuale coinvolgimento dei tre ragazzi proprio in quegli ambienti e non solo sullo stato psicologico e l'eventuale alterazione dovuta a droghe e alcol. La mafia Cecena, diceva, estorceva il pizzo a molti locali della Costa Bava sotto forma di consulenze, quindi secondo lui sarebbe stato superficiale non indagare in tal senso e continuare a trattare il caso come una semplice rissa. La Spagna non ha indagato in tal senso e non so dirvi se le autorità italiane abbiano approfondito o comunque considerato questa ipotesi per il momento. Quello che possiamo affermare con sicurezza è che sapevano combattere, avevano una corporatura allenata, una tecnica professionale e hanno colpito con enorme forza e violenza. Di Magomadov e Kabatov si sa che erano lottatori e che si sono trasferiti nel 2009 in Francia per sfuggire alla Seconda Guerra Cecena, mentre su Bisultanov negli anni sono state divulgate maggiori informazioni. Sappiamo che è nato nel 1993 in Cecenia e che all'età di 13 anni si è trasferito con i genitori in Francia, dove ha vissuto per sei anni nella periferia di Strasburgo, a Haute-Pierre. Sappiamo che ha dei precedenti, tra cui l'aggressione a una escort perpetrata con dei suoi connazionali e che anche lui era un lottatore professionista. Infatti aveva partecipato a svariati tornei e incontri di MMA, la lotta tecnica mista. Nell'agosto del 2017, durante un interrogatorio, ha detto di essere pentito per aver fatto una cosa così orribile e si è sciolto in lacrime, per poi chiedere di uscire presto per poter andare a trovare i genitori ammalati che ancora si trovavano in Francia. Beh, non uscirà per quattro anni. Jean-Luc Beck, l'allenatore della società sportiva per la quale gareggiava, lo definisce un ragazzo tranquillo e corretto. Si dichiara basito per quanto è successo e sostiene che la lotta libera sia una disciplina con rigide regole e non adatta alle persone violente. A mio avviso questa è un'affermazione leggermente generalizzante e oltretutto non credo che si possa comprendere l'indole di qualcuno basandosi esclusivamente sull'atteggiamento in campo sportivo. Riguardi invece all'utilizzo di droghe e alcol, gli amici Magomadov e Kabatov dichiarano che quella sera era ubriaco e aveva assunto droghe anfetamine e probabilmente proprio per questo ha perso il controllo. Ora, questo dato potrebbe essere considerato un attenuante, ma secondo me solo se abbinato a un'analisi approfondita sul suo passato in modo da chiarirne l'indole e la pericolosità. Kabatov, l'amico con la maglia rosa alto più di un metro e novanta, successivamente è stato intervistato e ha rilasciato la sua versione dei fatti. All'epoca del delitto lavorava come buttafuori e studiava all'università. E racconta. In discoteca non siamo entrati per divertirci, ma per parlare di lavoro. Appena entrati siamo passati vicini al gruppo di Niccolò Ciatti e uno di loro ha spinto il piccolo Vandam. Vandam è il soprannome. Poi dice. Niccolò li ha spinti senza un motivo. Così Rasul e Niccolò hanno iniziato a picchiarsi. Il mio amico ha cercato di calmarlo, ma è stato accerchiato dagli amici di Ciatti. Era solo, si sentiva minacciato e ha iniziato a picchiarli. Aggiunge. Io non mi sento in colpa per quello che è successo. Certo è una tragedia che una persona sia morta. Quando eravamo in caserma abbiamo pensato che sarebbe stato meglio se fosse morto uno di noi. Adesso sono come una zombie. Non sorrido più. Non alzo più lo sguardo. Mi limito a guardare per terra. E accusa gli amici di Ciatti. I suoi amici dovevano intervenire quando è iniziata la rissa. Francamente per la violenza del pestaggio credo sarebbe servito una folla per fermarli. Sicuramente la sicurezza all'interno del locale avrebbe potuto essere migliore. Ma ripeto, probabilmente non ci sarebbe neanche stato il tempo di intervenire. Comunque lui sostiene che l'amico Bisultanov si sia solo difeso da quei 5-6 ragazzi che abbiamo accerchiato. E che poi però non sono intervenuti per difendere il loro amico. Quindi qualcosa non torna. O quei ragazzi erano minacciosi e aggressivi o non lo erano. Quello che racconta è una versione completamente diversa da quella degli amici di Nicolò. Che dicono? Eravamo in pista a ballare e arrivano questi tre. Erano veramente grossi. Hanno iniziato a discutere con Nicolò ma non so perché. Poi uno di loro, quello con la maglietta rossa, lo ha aggredito. Lo ha preso per il collo. Quindi sarebbe stato Mossar Magomadoff ad iniziare la rissa e a colpire sia Nicolò che Andrea. Come vedete ho acceso la luce, scusate lo stacco ma mi sembrava un po' buio. Andrea racconta. Ho provato a difenderlo, gli sono saltato addosso, a quel punto ha lasciato Nicolò, mi ha preso in braccio e mi ha buttato in terra. Poi in pista si è formato un cerchio enorme, sembrava un ring. Poi è arrivato a Nicolò un calcio a una tempia, come fosse tirato a un pallone. Loro hanno cercato di proteggere Nicolò però le hanno prese e oltretutto è stata, ripeto, questione di pochissimi secondi e sicuramente non avrebbero mai pensato di trovarsi in una situazione simile. Non è solo la versione degli amici di Nicolò a discordare, ma anche quella di un ragazzo, un turista, che si trovava una decina di metri dal punto del pestaggio. Racconta. La gente ha continuato a ballare sulla pozza di sangue dove dieci minuti prima si trovava Nicolò. E' stato tremendo. Prima di sferrargli quel colpo, l'aggressore ha sollevato Nicolò e lo ha sbattuto a terra. E' caduto battendo la testa. Perdeva sangue da bocca e orecchie. Mezz'ora prima dell'aggressione, uno di loro, alto con barba e polo rossa, è salito al terzo piano del centrop, dove si trova la terrazza, e ha cacciato un urlo disumano facendoci girare tutti. Poi è sceso. Dieci minuti dopo, racconta, Magomadoff aveva rifilato una spinta all'amico di questo ragazzo, che fortunatamente non aveva reagito. Ora, i tre ceceni erano arrivati in discoteca alle 2.27. Il pestaggio è successo alle 3 del mattino. Da questa testimonianza si può capire che erano già esaltati al loro arrivo in discoteca e sembrerebbe in cerca di rogne. Ricorda che la rissa era al piano terra sulla pista. Si è creata una forte pressione verso l'esterno. Era distante 10 metri, ma la folla arretrava incollandomi alla parete. Muoversi o tentare di fare qualcosa per chi si trovava nelle retrovie era impossibile. I tre si muovevano in squadra. Uno picchiava e gli altri due tenevano lontani a cazzotti chiunque si avvicinasse. Mentre l'avvocato difensore di Kabatov l'aveva presentato come il pacere della situazione. È stato chiesto agli amici di Nicolò il motivo dell'aggressione. Eravamo lì per ballare e divertirci. Loro invece erano in cerca di altro. Quando è scoppiato il finimondo io ero poco più avanti e Nicolò invece stava camminando dietro di qualche metro. All'improvviso tra la folla è stato spintonato da qualcuno, come succede spesso in discoteca. Nicolò si è girato per capire ed è stato colpito da uno dei giovani. Erano delle bestie, non delle persone. Non si sono fermate neanche vedendo la terra e gli hanno tirato una pedata. È stato incredibile, sembravano matti. Gente addestrata a colpire. Senza scrupoli. Quindi chi è iniziato? Il dubbio che potrebbe sorgere è che Nicolò abbia aizzato i tre ceceni e che i suoi amici lo stiano in qualche modo difendendo, che stiano difendendo il suo onore. Io dubito che anche se Nicolò gli avesse detto qualcosa, gli amici con la musica così alta avrebbero potuto sentirlo. E comunque, anche se avesse avuto un atteggiamento aggressivo nei loro confronti, nulla, nulla avrebbe mai giustificato una reazione di questo tipo. Quindi, secondo me, Bisultanov è un soggetto socialmente pericoloso. Inoltre, dagli esami effettuati sul corpo, sappiamo che Nicolò non era né ubriaco né drogato. Aveva bevuto due cocktail, ma non aveva bevuto al punto da avere alterazioni significative. Il padre, inoltre, dice che non è mai tornato a casa con un occhio nero, non ha mai avuto problemi, che lui sappia non ha mai partecipato ad alcuna rissa. Quindi non ci sono elementi per pensare che avesse quel tipo di indole. In ogni caso, sebbene le piste possono essere molteplici, con gli attuali elementi possiamo solo considerare quella più verosimile. Cioè, un classico impatto in discoteca che ha fatto scattare la furia dei russi e che si è poi tramutato in un pestaggio mortale. Ora, torniamo ai fatti. Pochi giorni dopo, la Salma di Nicolò ritorna in Italia e si può celebrare il funerale, a cui partecipano circa 2000 persone. Amici, familiari, parenti, clienti, colleghi del mercato che avevano visto il banco chiuso per lutto in quei giorni. E con nazionali che volevano giustizia. Una giustizia che purtroppo deve attendere anni. L'istruttoria spagnola continua e Bisultano rimane in carcere, ma solo fino alla scadenza dei termini di carcerazione preventiva. Il 17 giugno del 2021 viene rilasciato con obbligo di firma settimanale presso il Tribunale di Girona, in vista del processo spagnolo che si sarebbe tenuto il 26 novembre dello stesso anno. Se ne perdono le tracce fino ad ottobre, quando viene identificato e arrestato in Germania ed estradato in Italia. Qui viene incarcerato e fissato il processo per il 18 gennaio 2022. Il 3 novembre del 2021 il processo spagnolo viene sospeso perché Bisultanoff, l'imputato, si trova in Italia e secondo la legge spagnola non è possibile celebrare un processo in contumacia. Le autorità spagnole hanno chiesto un parere all'Eurojust, l'organo europeo di cooperazione giudiziaria, per stabilire quale fosse il paese di competenza per il processo. Insomma, avevamo una vittima italiana, un imputato russo ceceno ma in asilo in Francia, un delitto commesso in Spagna e un imputato arrestato in Germania. Il processo in Italia era già stato fissato per il 18 gennaio 2022, ma il 22 dicembre 2021 l'imputato viene rilasciato dalla Corte d'Assise di Roma per via di un vizio procedurale segnalato dalla difesa, cioè che la misura cautelare emessa non poteva essere emessa perché Bisultanoff non si trovava in Italia al momento della sua emissione. Potete solo immaginare quanto questa notizia abbia lasciato tutti disorientati, sbigottiti, confusi, arrabbiati. In ogni caso, il 18 gennaio 2022 inizia il processo in Italia, senza imputato, dove viene ribadita la necessità di svolgere il processo nel nostro paese, mentre la difesa, al contrario, cerca di dimostrare l'incompetenza di Roma sul caso, ribadendo che l'arresto è stato illegittimo e definendolo alla stregua di un sequestro di persona. Intanto a gennaio Bisultanoff era sparito, ma con gran sorpresa a febbraio si presenta a Girona e si costituisce. Preferisce essere giudicato lì e rimette in moto tutto il processo spagnolo che era stato sospeso. Riprenderà il 30 maggio per quattro giornate. Perché questa scelta? Beh, ovviamente l'imputato preferisce essere giudicato in Spagna, perché in Italia per l'omicidio volontario c'è una pena chiamata ergastolo, mentre in Spagna si rischiano al massimo 24 anni. E lui ne ha già scontati quattro in carcere. Ha affermato Non sono un assassino. La morte del ragazzo è stato un incidente. Non pensavo che fosse morto. Io non ho paura della giustizia, però chiedo di essere giudicato in Spagna, perché non ho fiducia nella giustizia italiana. In Italia mi hanno trattato male. Pretendevano di farmi firmare documenti senza avvocato e senza l'interprete. A tal proposito, il 17 marzo del 2022 viene presa una decisione sulla questione del processo, che potrà svolgersi anche in Italia dopo quello spagnolo. E arriviamo quindi al processo spagnolo. Nonostante in Spagna non sia contemplato il processo in contumacia o in assenza di imputato, i due imputati si sono presentati comunque. Sono Rasul Bisultanoff, il ragazzo con la maglia grigia che aveva tirato il calcio letale a Niccolò Ciatti, e l'amico con la maglia rossa, Mossar Magomadoff, incolpato anche lui di omicidio perché avrebbe preso parte attiva al pestaggio. Il padre racconta che gli imputati sono entrati in aula con le loro mamme, ben vestiti, con muscoli e tatuaggi accuratamente coperti. Sembravano dei bravi scolaretti. Un'ombra delle belve di quel video. Niccolò è morto per una moraggia celebrale, e i medici legali hanno attribuito la lesione alla testa proprio a quel calcio mortale, sostenendo che ha comportato in modo inesorabile la morte del ragazzo. Vengono ascoltati anche i consulenti della polizia spagnola. Quel calcio così violento e letale è una tecnica derivante dal full contact e dal kickboxing, dato con un'apertura di oltre 45 gradi per caricare, colpire alla massima potenza spostando il peso, e ritirare la gamba per poi tornare nella posizione di guardia. Dato da una persona esperta, da un professionista. Insomma, un calcio sferrato con perizia e per sortire un effetto devastante. Niccolò non aveva alcuna possibilità di difendersi da un calcio del genere. Chi fa arti marziali o lotta libera, come nel caso di Rasul Bisultanov, il giovane imputato per omicidio, sa che un calcio del genere così violento può uccidere. E ricordiamolo, Niccolò era già a terra. Riguardo a Magomodov, i poliziotti che hanno svolto le indagini dicono che colpiva da ogni parte per tenere lontani tutti, mentre Bisultanov infioriva su Niccolò. Quest'ultimo in aula si è difeso, ha detto di essere andato nel panico e di non aver voluto colpire a morte Niccolò. Non volevo ucciderlo, ha detto. Non mi sono accorto di aver colpito la testa, e no, non sapevo che un calcio alla testa potesse provocare la morte. Quella sera ho pestato i piedi a qualcuno, mi sono sentito dare una spinta, io mi sono girato con il sorriso e ho chiesto, Amico, cosa è successo? Da quel momento mi sono arrivati calci e spinte. Un ragazzo alto mi ha dato un pugno alla spalla, e poi ha tentato di colpirmi al viso, ma sono riuscito a schivarlo. Ero sotto shock. Ripete più volte. La sua difesa ha infatti sostenuto che si sia trattato di un omicidio preterintenzionale, reato punibile con un massimo di 4 anni, mentre l'accusa sostiene che sia stato intenzionale. Si sentono anche le testimonianze degli amici di Nicolò e di due turisti che quella sera erano proprio al Saint-Tropp. Ho visto quel calcio e ho pensato che fosse mortale, poi ho visto lo sguardo di Nicolò perso nel vuoto. Un ragazzo con la maglietta grigia gli dà una violenta spinta. Sono furie scatenate, come impazziti. Quando Nicolò è finito a terra, inerme ha ricevuto la pedata alla testa. Il suono di quell'impatto l'ho sentito nonostante il rumore della discoteca. Alle 2.50 i due gruppi si incontrano. E anche da altre testimonianze, come quella del DJ della discoteca, emerge che ci sarebbero state delle spinte tra Nicolò e i Ceceni prima di trasformare la pista da ballo in un ring, prima di quel calcio che non gli ha lasciato scampo. La Geria Popolare del Tribunale di Girona ha stabilito che quel calcio voleva uccidere. Quindi ha condannato Bisultanov per omicidio volontario. Il PM ha infatti chiesto dai 15 ai 24 anni, la pena massima, e 9 anni di libertà vigilata. Pochi giorni fa è stata emessa la sentenza. Bisultanov è stato condannato solo a 15 anni, di cui 4 già scontati, mentre Magomadov è stato assolto. Entrambi gli imputati attualmente si trovano in Spagna e Bisultanov ha trovato lavoro come cameriere. Al momento non dovrà andare in carcere, ma ha l'obbligo di firma ed è senza passaporto. Quindi nulla gli vieta di darsela fuga. Non si può sicuramente dire che per il momento si sia ottenuto giustizia per il delitto Ciotti. Ma nulla è perduto. Lo scorso 22 giugno la Corte d'Assise di Roma ha dichiarato infondata l'istanza della difesa del Ceceno, secondo cui si chiedeva la chiusura del processo italiano per il principio del nebis in idem, a seguito della sentenza spagnola. Attualmente dovrebbe essere in corso un processo anche in Italia. So che doveva iniziare l'8 luglio e concludersi in quattro dienze per il 31 ottobre. Prima di concludere vorrei fare un commento su Magomadoff. Sappiamo che non è stato lui a concludere in quel modo orribile la rissa, ma ha preso parte attiva al pestaggio e dalle testimonianze avrebbe dato inizio alla rissa. La Francia ha concesso l'estradizione a seguito del mandato d'arresto europeo ed è per questo che Magomadoff ha ripiegato in Spagna. Perché la Spagna è l'unico paese, avendolo assolto in primo grado, dove non rischia di essere incarcerato e può guadagnare tempo in vista del processo italiano. Infatti solo per Bisultanov è stato richiesto il giudizio immediato che dovrebbe concludersi nei prossimi mesi. Quindi per fare ulteriori valutazioni dovremo attendere. Ma basandoci per esempio sulla sentenza del caso Willy, emessa pochi giorni fa, dove due dei quattro imputati hanno ricevuto l'ergastolo e gli altri due sono stati condannati per concorso in omicidio. O la sentenza del caso del tassista Luca Massari, dove i due fratelli, fratello e sorella, Citterio, sono stati condannati per concorso in omicidio. Beh, non credo che Magomadoff verrà mai assolto qua in Italia. L'Italia tende a punire chi ha colpito o haizzato l'atto che ha provocato la morte e starà all'accusa di mostrare il livello di coinvolgimento nel pestaggio. Bisultanov o Bisultanov invece risca l'ergastolo, come dicevamo. Vedremo cosa decideranno i giudici. Io vi aggiungerò non appena verrà emessa la nuova sentenza. Spero che questo video sia stato interessante e mi piacerebbe sapere la vostra opinione su questo delitto nei commenti. Se volete sostenermi, mettete un mi piace al video e iscrivetevi al canale. Per tutti gli aggiornamenti, cliccate sulla campanella. Nelle prossime settimane pubblicherò altri video dedicati alla cronaca nera e analizzeremo una delle menti criminali più misteriose del Novecento italiano. Intanto vi ringrazio per aver ripercorso questa storia drammatica con me. A presto! Grazie! Grazie!